Buongiorno a tutti dagli X65. Parliamo di un argomento che in questi giorni ha tenuto banco. C'è stato qualche calciatore che ha rilasciato post su Instagram dicendo parlando della situazione di oggi, del virus e del fatto che abbiamo chiuso i porti a tutti quanti. Possono i calciatori commentare e dire quello che pensano su Instagram o sui social? Il mio parere, innanzitutto chiunque può dire la propria opinione. Il mondo è libero per tutti, per il ricco e per il povero. Poi però si incorre in critiche, in alcuni casi motivate. Perché purtroppo forse le persone agiate, i milionari, perché questi sono milionari, e quando tu filmi un contratto da 4-5 milioni di euro netti e prendi soldi di sponsor e prendi premi partita, guadagni i soldi che una persona media non guadagnerà mai nemmeno in 10 vite, forse in 20 vite. Adesso non ho fatto bene il calcolo, comunque facciamo in 10 vite, 20 vite. Vuol dire avere soldi per poter far vivere bene la propria famiglia, i propri figli, i figli dei propri figli, i nipoti, i bisnipoti. Quindi è normale che un operaio, un precario, una delle persone che magari deve lottare per un posto di lavoro precario, vi risponda male, perché dall'alto di una villa, in collina, quando ti metti la mano in tasca e senti che ci sono i soldi, quando vai in qualsiasi negozio e sai di poter comprare qualsiasi cosa, da bere, da mangiare, da vestire, è normale che una frase di questo tipo faccia incazzare, il che non vuol dire che non si può commentare, si può dire qualsiasi cosa, però bisognerebbe avere un pochettino più di decenza verso chi non si può permettere, alle volte, neanche di mangiare la carne, o di comprare un giocattolo al figlio, perché magari sembra una cosa scontata, ma non lo è. Tempo fa, mi ricordo, venne in casa mia una persona a fare una riparazione, e mi diceva che, lavorando soltanto lui, in casa, e avendo due figli, aveva comprato una bicicletta, e se la sarebbero dovuta dividere tutti e due, non poteva comprare due biciclette. Non poteva comprare due biciclette. Io sono cresciuto in una famiglia di operai, i miei parenti erano sempre gente non ricca, ci si passava ai vestiti da, tra fratelli, tra cugini, quando diventavano piccoli, andavano bene per uno più giovane. Non so se queste cose siano fatte ancora. Questo è il motivo per cui, alle volte, si viene insultati su Instagram. Una vita scandita da fotografie di quello che si mangia, fotografie di quello che si compra di vestiario, un voler ostentare sempre lusso, perché ovviamente nessuno posta un paio di pantaloni con una toppa. E allora, sì, potete commentare, potete dire tutto quello che volete, però poi non lamentatevi che la gente vi manda a fare in culo. Perché dire abbiamo chiuso i porti, quando per voi potrebbero aprire tutti i porti del mondo, a voi non cambia niente, mentre per la gente che vive nelle periferie l'invasione cambia molto. Ecco, forse dovreste farvi un giro... Bisognerebbe fare un giro nelle scarpe di un povero, o di un non ricco. E poi forse certi post verrebbero evitati. Un saluto a tutti da Juke 65. Un saluto a tutti da Juke 65.